Se volete acquistare dei crediti di FIFA 15 a prezzi bassissimi passate su easyfifacoins.com E con il codice EZE oltre alla mia ragazza, si proprio lei, avrete anche il 5% di sconto, link in descrizione Bella! Bella ragazzi, qui Sector e sono tornato con un nuovo video E oggi... Il pro del naso Scherzo a parte sono tornato appunto sul mio canale con un nuovo video di FIFA 15 E in particolar modo sono qui con la primissima partita in divisione 3 Allora raga questa è la mia squadra, come potete vedere ho portato un paio di modifiche In particolar modo ho acquistato Alexis Sanchez che è un giocatore veramente che mi piace tantissimo E questa rosa e questa squadra io la definisco un po' come la squadra appunto dei sogni e dei desideri Perché personalmente non mi sono mai trovato così bene con una squadra perché sia offensiva Ma allo stesso tempo anche molto difensiva Quindi se ti parli in tante chiacchiere abbiamo trovato l'avversario, ok? C'è la squadra simile alla mia... Eh asarda, guero, di Maria Più o meno diciamo che è simile alla mia Attenzione lo anticipo molto bene Dov'è Sanchez? Eccolo qua E il nino maraviglia Oh my fucking god ce ne va Inizia il numero L'ha visto in profondità Vai Angelo Mettile in mezzo per il cun Non ci arriverà mai così se la metti indietro Si parte Parte il pressing Offensivo Attenzione Legature La prova Il tiro Madonna mia il baranone mi ha fermato Oddio che entrata da maiale io ho fatto Addirittura se mi da rosso Ok Pianto un coppone Vai Angelo Vai Angelo Se ne parte di Maria Un numero Oddio ho visto il taglio No è fuori gioco dimmi di no Dimmi di una guero Dimmi di una guero No Ma fischia prima coglione Occhio alle beffe Occhio rega Occhio rega Occhio Oh Dimmi di Maria E' sempre lui Oh my god Non gli toglie la palla Adesso parte Sanchez Vai Alexis In profondità Guarda qualche numero Oddio le finte Sempre Alexis Se ne va Sempre lui Sul fondo Il cross in mezzo Non c'è nessuno Schurler Non ci arriva Ma neanche Se gli regali Anigri Occhio perché sto qua Quando riparte fa un male Porco Sembra di avere un cactus Nel culo Fa malissimo Si Si cazzione Si cazzione Si cazzione Non so chi è questo qua Walker Il tiro Ma cosa Mi ha fatto fallo Mi ha buttato Gioca Hill Pensava avesse fischio No mamma mia Adesso Mi cazzo Te lo sparo nel culo Ma com'è possibile Dai Mi ha atterrato il giocatore Rega Mi ha buttato Gioca Hill Mi ha buttato in difesa Oh my god Di Maria Oh my god Di Maria Attenzione perché c'è Guero La vogliono già pareggiare Ti surle Si La pareggia subito E di surle Dopo neanche un minuto Dopo un solo minuto Abbiamo già rimontato Grandi rega Così impara a giocare a soleale Santa Claus Che culo rinvio Che culo rimpallo Volevo dire Vai surle Perché non fa movimento a Guero Non lo so Attenzione perché c'è Di Maria Sanchez dove è andata Puttane Sanchez Dove sei Si Si bellissima questa azione Bellissima questa azione Per Angelo Per Angelo Che rientra Su sinistro E c'è Pedro Il tiro giro Cosa ha parato Cosa ha parato Quindi rega Finisce 1-1 Il primo tempo Della prima partita In divisione 3 Ma adesso Siccome noi non ci mettiamo Lo zucchero Sono cazzi amari Perché cominciamo E adesso Sanchez deve fare il numero Deve fare il buono Eh Sanchez Guardalo Lo sfida Sfidalo Bravo Alexis Vai così Bravo Vedi il buco in mezzo Ma Guero Con calma Allarga Dall'altra parte Dove c'è ciurle Lo vedi Il buco in mezzo Io Guero No No Si Che gol di merda Andiamo Guarda che due coglioni Che imbecilli Ancora non c'è Il gol della merda Ragazzi questo qua è un gol della merda Oh Ramirez Ramirez è l'uomo più avanzato Adesso della mia squadra Devo attendere i rinforzi Di Maria Di prima Sempre con quel tocco di fino Si ne va Ti è che tu re Non lo butti giù Neanche guarda Se mi prendi un carro armato E te l'ho detto Te non mi ascolti Ti faccio fuori anche tutti Ti faccio fuori anche tutti Anzi te la metto in mezzo E faccio Cagare Cosa mi ha sbagliato l'alieno Eh che stacco poderoso Che stacchi sontuosi Guarda Sanchez L'ho visto il taglio Non gliel'ha data La palla Sia chiaro E la Madeleine Oh ma ha montato Ma ha montato No non puoi fare quello Fuori gioco Stratto Sanchez sfidalo Brava Eh la madonna Cosa stavo per fare Ritorna sempre da Sanchez La palla Ritorna sempre da lui Se ne va sempre Alexis Ancora in profondità Spacca le difese Come un qualarboreo In mezzo adesso Taddy Maria No A rigore No raga no Alla fine no Alla fine no Alla fine no No Si che parata ha fatto Stegheia Bravo Walker Adesso lo teniamo qua Si vai Sanchez Vai vai il buco Vai il buco per Alexis Vai Sanchez Vai Sanchez Oh perché ci sei fermato Adesso ti picchio io Si i numeri lì Skill in mezzo all'area Se ne va sempre Alexis Sanchez Madonna mia Cosa stava per fare E finisce così raga Eravamo andati sotto Siamo riusciti in qualche modo Ad andare in vantaggio Con un gol Scandaloso E come sempre io spero di aver fatto passare Un paio di minuti in buona compagnia E mi raccomando Rimanete sintonizzati Sempre qui sul mio canale Perché a brevissima arriverà Un Wegrame C'è del tutto epico Assieme ad un altro youtuber Ma se avete delle richieste specifiche Insomma io vi invito a lasciare qui sotto Un piccolo commento Un piccolo mi piace Da Esector è tutto Un salutone Ciao campioni